Meno due giorni all'attesissima pronuncia del CONI sul ricorso del Trapani. Un verdetto attraverso il quale passa il destino del Pescara, che in caso di rigetto si giocherebbe la salvezza nel doppio confronto con il Perugia. In caso di accoglimento, anche parziale, sarebbe retrocesso in Serie C. La partita che la società siciliana gioca nell'udienza di giovedì pomeriggio, ore 15.30, fa leva sulle cause di forza maggiore legate all'emergenza Covid-19, che, secondo la linea difensiva, avrebbe impedito di effettuare il totale pagamento di stipendi e contributi di gennaio e febbraio dei tesserati entro il termine perentorio del 16 marzo. Un fattore però che non ha fatto presa sui collegi giudicanti dei due organi endofederali. Già in primo grado il Tribunale federale nazionale ha rilevato come il versamento degli emolumenti di febbraio sia stato eseguito il 17 e il 20 marzo e neanche integralmente. Ha valutato insussistente e non provata la causa di forza maggiore, anche perché gli emolumenti maturati fanno riferimento a periodi pre-Covid, quando dunque la società poteva effettuare la provvista di liquidità per i pagamenti. Tuttavia il TFN ha penalizzato il trapani di un punto, poiché ha tenuto conto, si legge nella sentenza, della situazione contingente nella quale la violazione è stata commessa e il successivo ravvedimento, benché parziale. In secondo grado la Corte federale ha portato a due i punti di penalizzazione, ha confermato l'assenza di prova della causa di forza maggiore e ha osservato che il codice di giustizia sportiva è chiaro, il mancato pagamento comporta almeno due punti di penalizzazione. Il collegio difensivo del trapani, diretto dall'avvocato Edoardo Chiacchio, si è arricchito dell'accademico Guido Alpa, emerito di diritto civile e mentore del premier Giuseppe Conte. A lui il trapani chiede di individuare le strade per convincere il collegio di garanzia del CONI ad eseguire un giudizio di legittimità che sovverta quanto espresso dalla Corte federale. La vicenda richiama vagamente quella del mancato totale pagamento degli stipendi entro i termini del Sant'Arcangelo nella primavera 2018. Lì in primo grado il club romagnolo fu addirittura prosciolto a sorpresa dal TFN ma fu punito in secondo grado dalla Corte federale con due punti di penalizzazione. Una sentenza che mise in salvo il Teramo e condannò il Sant'Arcangelo ai play out col Vicenza con successiva retrocessione. Anche in quel caso la società romagnola provò a dimostrare una causa di forza maggiore dovuta a responsabilità del professionista a cui era stato dato mandato di effettuare i bonifici. Non bastasse il CONI, in casa Trapani si attende un altro verdetto in questa settimana. Come riporta il giornale di Sicilia, il Tribunale delle Imprese si dovrà pronunciare sul procedimento avviato dalla vecchia proprietà nei confronti della nuova, la quale non avrebbe ottemperato i pagamenti pattuiti in base all'atto di cessione sottoscritto a giugno 2019. C'è il rischio che la vecchia proprietà targata FM Service riabbia indietro il club siciliano che ora fa capo ad Alivision dell'imprenditore romano Fabio Petroni, ex presidente del Pisa di Gattuso. Uno spaccato complesso in cui si inserisce anche la messa in mora dei giocatori alla vigilia del match di Pisa. In tutto questo contesto il Pescara spera e proverà a inserirsi nell'udienza di giovedì col proprio legale Nicola Lotti come parte controinteressata. La squadra ieri mattina ha ripreso ad allenarsi al Poggio in vista della gara d'andata di lunedì prossimo allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Perugia. Mancheranno Balzano e probabilmente Del Grosso. Boginovi invece è rientrato in Bulgaria ed ha chiuso anzitempo la sua infausta esperienza in Biancazzurro.